Ciao a tutti, sono Stef Cenko di OSC Mortara. Ringrazio innanzitutto Tommy per aver pensato a me per questo casinone. Vi racconto la mia esperienza con Subuteo. Allora io inizio a giocare a Subuteo alla fine degli anni 70 durante le vacanze natalizie. Il mio cugino Pavel da Trieste viene a Novara a trovarmi con la nonna paterna e mi porta questa scatola in cui c'è il kit Subuteo, quindi le squadre, il panno, le porte e il pallone, quello grosso. Le prime partite vengono disputate sulla moquette di casa mia con noi due che gattoniamo attorno al panno come due bambini. Immaginate la palla che finisce sotto i divani, sotto le poltrone, sotto il tavolo, sotto il cinema. Dopo questa vacanza natalizia inizia quella che io definisco la fase 2, cioè una fase che durava praticamente per tutti gli anni 80, in cui io mi arrecco a Trieste da Pavel nel mese di agosto e lui continuava a tornare a Novara per le vacanze di Natale. Soprattutto a Trieste c'è qualche evoluzione, non si gioca più sul pavimento ma il panno viene inchiodato a una lastra di compensato, le porte idem, abbiamo anche il recinto quello verde, il tabellone e si danno vita a campionati, coppe del mondo di tutti i tipi. L'unica cosa che soffre un po' di immobilismo è il parco squadre di entrambi. Un po' per la mancanza di soldi, un po' per la difficoltà a reperire nei negozi, le squadre che abbiamo sono sempre quelle. Quindi nasce la necessità di cambiare volto le squadre e da qui l'idea di impitturare. Quindi qualche squadra viene letteralmente violentata e cambia aspetto e quando si ha la possibilità di comprarne qualcuna le si compra già con l'idea di poterle trasformare. Quindi magari si compra un Real Madrid totalmente bianco oppure una maglia che si può avvicinare a quella che la squadra acquistata diventerà. Io mi ricordo che la prima squadra a essere transformata delle mie fu un Bologna HV che divenne un Dandy. Purtroppo verso la fine degli anni 80 questo sogno si interrompe e l'interruzione durerà quasi 25 anni. Io non tocco più Subuteo, non tocco più Liumini, tutto finisce in cantina. Per essere poi rispolverato nel 2014 quando entro a far parte dell'Old Subuteo Club Mortara. A Mortara trovo un ambiente bellissimo comandato dal presidentissimo Mauro Starone e proprio Mauro come me è un appassionato, un forte appassionato di Subuteo e di pittura. E quindi assieme riscopriamo il piacere di pitturare. Ma pitturare forte. Perché comunque durante l'anno vengono indetti un paio di tornei a scopo benefico in cui io, Mauro e adesso anche altri giovinastri, come vengono chiamati i subuteisti del Club di Mortara, dipingono squadre che verranno utilizzate per questi tornei e che poi verranno vendute o ai partecipanti o a esterni in modo da raccogliere fondi per Casalessia che è praticamente la la Onlus di Novara che noi sosteniamo e che è diventata praticamente la beniamina del Club di Mortara. Ecco infine il mio parco squadre e adesso vi presento qualche mia creazione. Allora questo è l'Atletico Bilbao del 98, la maglia del centenario del Club. Poi passiamo al Milan 94-97. Questo è il Milan originale che utilizzavo all'epoca e che ho arricchito con lo sponsor Franco Baresi con la faccia di capitano e la maglia fuori dalle braghe. Questo è un Bury 1885-1887, molto Kent di starognana memoria. Questa è la Jugoslavia del 90, quella del famoso rigore sbagliato che poteva cambiare i destini della ex nazione balcanica. nazionale di campioni. Proseguiamo con la Triestina 82-83, una maglia a cui sono particolarmente legato perché seguivo le partite anche allo stadio, quella della coppia a Scagni de Falco. passiamo al famoso Dandy 76-80 che mi sono ridipinto per ricordare quella maglia, quella squadra che è la prima che adesso è trasformata. Stadio Reims 1955-56 e infine la nazionale del Vanuatu, una delle mie migliori realizzazioni secondo me. bello effetto cromatico. Un grazie a tutti e a presto. Ciao! Subuteisti del globo terraqueo, benvenuti a casa mia a Mortara. Un saluto da parte di Mauro Starone, sono il presidente di OSC Mortara e voglio salutare Subuteo Tommo che mi ha dato l'opportunità di ospitarvi nella mia casa, nella mia passione per il Subuteo perché oggi voglio illustrarvi qualche cosa della mia passione che andrà poi su Ianes Subuteo Live. Allora, la mia passione del Subuteo è nata nel 1978 quando l'ho ricevuto per Natale dopo anni e anni di richieste. I miei genitori, facendo una colletta con i parenti, l'hanno comprato e da lì è scattata la passione. La passione che poi è sfociata con le mie squadre, l'Avellino e il Fluminense fra tutte. È una collezione che, ahimè, smettendo nell'84 è andata perduta. Più o meno intorno al 2013, tornando da un viaggio all'estero molto, molto, molto avventuroso, sono andato a casa di mia nonna a cercare le mie vecchie squadre, ma me le avevano gettate via tutte. E allora ho detto, si avvicinano i 50 anni e io voglio farmi un regalo. Voglio regalarmi un club di Subuteo, radunare tutti i ragazzi di Mortara dei paesi vicini e rimetterci a giocare come una volta. Da lì è rinata la passione. Adesso vi faccio fare un giro nelle mie squadre. Partiamo dalle italiane. Io ho una collezione fatta di 3-4 nazioni. Colleziono le squadre italiane, argentine, brasiliane, le due grandi dell'Uruguay e poi le portoghesi. Allora, le italiane, uno dice, è il Pescara, no signori? È il Mortara. Mi sono dipinto il Mortara, questa è la prima maglia, perché dipingendo puoi creare tutto quello che vuoi. Io dipingo in stile Kenting, stile semplice, uso gli Ambron e mi faccio le mie squadre. Poi qui ho un Avellino replica, la Ref 253, sempre dipinta da me. L'Avellino di Barbadillo e Scov dell'82-83 con il quale sto facendo il campionato OSC Mortara di Serie A, il nostro campionato interno. Perché è bello dipingere le squadre? Ma perché puoi fantasticare, guarda ancora cosa succede con le squadre italiane. Un lecco. A me piace molto l'abbinamento blu-celeste o addirittura il legnano con il color lavanda, che poi è un lilla molto chiaro. Facciamo un giro all'estero, andiamo in Uruguay dove abbiamo il Penarol e il National di Montevideo, le due grandi nemiche. Pensate che queste due squadre, soltanto loro hanno vinto qualcosa come un 60 titoli. Andiamo a fare un giro in Brasile. In Brasile, eccolo qua. Il mio grande amore straniero, il Fluminense, che me la sono creata io in triplice riga con il verde, il cremesi e il bianco. Ancora in Brasile, il Fortalesa. Questa è stata una carinissima scatola che mi hanno regalato per il mio compleanno. E poi l'Argentina. Delle Argentine le ho quasi tutte, però voglio farvi vedere una squadra che per me è particolare. Questa è la Platense o il Platense. Perché è particolare? Perché è una delle rarissime maglie color marrone in giro per il mondo. Guardate che meraviglia. Anche i miei ragazzi, i miei giovinasti al club, quando hanno visto questo colore, si sono scatenati e hanno capito che ci sono altre squadre così. Il Mion Dahlen, il Saint Pauli e forse ce n'è un'altra, non mi ricordo dove, ma comunque qualcosa di marrone c'è sempre. Il Portogallo, un altro mio grande amore. Le classiche le ho tutte, però oggi vi faccio vedere due squadre perdute nel tempo. Il Montillo e il Cuf Barreiro. Dipinte da me, hanno una particolarità. Gli originali erano stati dipinti con questo verde scurissimo, che era stato adoperato per forse 3-4 squadre, sia per il Cuf, sia per il Montillo. E uno dice, eh certo, è il Nantes, è l'Australia, è il Norwich. Sì, ma quelli erano colorati con un verde un po' più chiaro. Bene, allora, questa è una piccola panoramica. Adesso volevo ringraziarvi, volevo augurare a tutti voi buone feste e volevo dire che il Subuteo è un vero toccasana. Quelle due orette, giocate con gli amici, giocate al club, ci allontanano dalle bollette. Torni a casa anche un po' più rilassato, che si vince, che si perde, chi se ne frega. L'importante è tenere alto il nostro gioco. Allora, da Mauro Starone è tutto, e io ve lo leggo con l'annuncio. Grazie Subuteo Tomo, grazie Janez, Subuteo Slife. Buon Subuteo e buona vita a tutti, dal vostro, sempre vostro, Mauro Starone.